Ciao, oggi presento la ricetta dei biscotti friabili al cacao con un cuore morbido alla nutella. Per la ricetta utilizzerò farina doppio zero debole, burro o margarina, zucchero semolato, cacao amaro in polvere, uova intere, vanillina o bacca di vaniglia, scorza di limone e un pizzico di sale. Per il ripieno nutella e olio di semi. Per il ripieno scaldo la nutella o a bagnomaria o al microonde per 30-40 secondi. Una volta calda non troppo, mi raccomando, altrimenti cristallizza. La diluisco con l'olio di semi. Poi prendo uno stampo in silicone a semisfera e lo riempio con il composto. Poi lo lascio riposare in congelatore per un'ora. Per chi non ha lo stampo in silicone, può stendere il ripieno su un contenitore con il bordo, farlo rapprendere e poi magari tagliarlo a cubetti con il coltello. Altrimenti si può lasciare il ripieno direttamente nel contenitore, poi si farà prendere in questo caso non nel congelatore ma in frigorifero per circa un'ora. Poi aiutandosi con il cucchiaino si forma una sorta di sfera o semisfera. Come prima cosa morbidisco il burro nella planetaria con lo zucchero alla velocità più bassa utilizzando il giancio. Quando morbido aggiungo l'uovo, raschio i bordi e lascio girare ancora. Una volta incorporato, sempre alla velocità più bassa, aggiungo il cacao amaro e la farina poco per volta. Pulisco i bordi e continuo ad aggiungere la farina. In ultimo un pizzico di sale e gli odori, quindi la scorza di limone e la vanillina. Pulisco di nuovo i bordi e lascio girare ancora un minuto. Il composto è ben amalgamato, quindi lo tolgo dalla planetaria. È coperto con pellicola trasparente. Lascio riposare l'impasto per 15 minuti in frigorifero. Trascorsi i 15 minuti, l'impasto ha riposato abbastanza. Aiutandomi con dello zucchero a velo, lavoro un attimo con le mani. e lo stendo col mattarello. Controllo lo spessore, che dovrà essere di 2-3 mm. Poi taglio con un coppapasta tondo. Poi taglio con un coppapasta tondo. e poi li ristendo. Prendo il ripieno, che ho già tolto dallo stampo, e riposiziono il centro del disco. Copro con un secondo disco e schiaccio i bordi per farlo aderire bene. Poi volendo si può lasciare così, schiacciando bene il bordo. Oppure con un coppapasta più piccolo, rispetto a quello di prima, lo vado a tagliare di nuovo. e infine lo posiziono sulla teglia. Terminato tutti i dischi si recuperano i ritagli. e stendo di nuovo. Taglio altri dischi. taglio qui. E vado avanti come prima. Oppure con un coppapasta più grande. Posso fare un disco. Poi posiziono la farcia. e lo chiudo in questo modo. Chiudo bene il fondo. Danno forma di una pallina leggermente schiacciata. E questa è un'altra forma. Perfetto, i frullini sono pronti per la cottura. Ci sono tutte e tre forme. Il primo preparato unendo semplicemente i due dischi. Quello preparato unendo sempre i due dischi e poi ritagliato di nuovo con un coppapasta più piccolo. O quello preparato con un semplice disco e poi arrotolato. Se durante la preparazione l'impasto si è ammorbidito troppo consiglio di passarli 10 minuti in frigo prima della cottura. In questo modo manterranno più la forma originale. E li cuocerò in forno statico a 180 gradi per 15 minuti circa. Poi varia in base allo spessore e alla grandezza del biscotto. Perfetto, i biscotti sono pronti. Grazie e alla prossima ricetta, ciao!